La storica e alquanto significativa visita di Papa Francesco a Lampedusa. A parte gli eventi che si sono susseguiti tra il saluto agli immigrati presenti nell'isola e la corona di fiori lanciata a largo in mare, a ricordo dei circa 25.000 morti in 20 anni di traversate disperate, ciò che sarà impresso a futuro e perenne monito sono le parole del Papa pronunciate nel corso dell'Omelia durante la Messa. Eccole in sintesi. La notizia degli immigrati morti in mare è stata per me una spina nel cuore, che mi ha spinto ad andare a Lampedusa per risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. Voi Lampedusani siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà. Grazie. Ai cari immigrati musulmani che oggi iniziano il digiuno di Ramadan, la Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie. A voi Osha, Adamo dove sei, Caino dove è tuo fratello. Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza. Tanti di noi, mi includo anche io, non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni con gli altri. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili, ma hanno trovato la morte. La cultura del benessere ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, che sono belle ma non sono nulla, sono l'illusione del futile che portano all'indifferenza. Viviamo nell'indifferenza verso gli altri, anzi nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro. Chiediamo allora perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, per chi si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere, che porta all'anestesia del cuore. Chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. auspico la conversione del cuore di quanti generano guerra, odio e povertà, sfruttano i fratelli e le loro fragilità e fanno indegno commercio della vita umana, come i trafficanti. E nel giorno della visita a Lampedusa, Papa Francesco ha scritto su Twitter Pregniamo per avere un cuore che abbracci gli immigrati. Dio ci giudicherà in base a come abbiamo trattato i più bisognosi. Che avete mostrato e mostrate attenzione a persone per il loro viaggio verso qualcosa di migliore. Voi siete una piccola realtà, ma offrite un esempio di solidarietà. Grazie. Grazie anche all'Arcivescovo Monsignore Francesco Montenegro per il suo aiuto, il suo lavoro e la sua vicinanza pastorale. Saluto.